Buonasera da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini, ultimo aggiornamento per questo mercoledì sera. Segnalata una perdita di carico in A1, siamo tra Firenze Sud e in Cisareggello la direzione quella per Roma. Sempre in A1, un veicolo segnalato in avaria tra l'allacciamento con la 11, la Firenze Pisa Nord e Firenze Scandici in direzione di Roma. Un'altra perdita di carico segnalata sulla FIPI Litra in Poliovest e San Miniato Basso in direzione di Livorno. Sono segnalati mezzi Spargisale e nel tratto compreso tra Pian del Voglio e Calenzano, sesto Fiorentino, siamo in A1. Ancora traffico intenso sui viali a Firenze sia in entrata che in uscita città. In chiusura uno sguardo al tempo previsto per domani in Toscana, nuvoloso in mattinata con possibilità di rovesci dal pomeriggio schiarite. È tutto Muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A domani!